Sesta Rete Partiremo come di consueto dal calcio catania con le principali trattative di mercato caldissime che interessano i rossazzurri che si trovano alla vigilia del match di campionato che si giocherà domani alle ore 15 sul campo del Lanciano scopriremo appunto l'avversario di turno degli Etnei così come il giocatore più pericoloso di Roberto D'Aversa Andremo poi in casa Palermo con il prossimo match che giocheranno i rosa nero che devono riscattare il 4-3 subito dalla Fiorentina la scorsa settimana e chiuderemo con la palla nuoto maschile in particolare con il campionato di Serie 2 che domani vedrà il match tra la item nuoto catania di Beppe Dato e Salerno sul campo della piscina Francesco Scuderi di Via Azzurria Tutto questo dopo la prima pausa pubblicitaria Partiamo dunque come sempre con il calcio catania tante le trattative di mercato che riguardano i rossazzurri che tornano su Mancosu del Trapani che piace tantissimo a Pablo Cosentino e alla dirigenza etnea Chiaramente si pensa anche a rafforzare il reparto difensivo e soprattutto all'eventuale sostituzione del possibile partente Alberto Frison con particolare riferimento a Jean-François Gillet che già era stato accostato ai rossazzurri durante il mercato estivo Però è anche la vigile di campionato e sicuramente ci sarà qualche novità nello scacchiere di Dario Marcolin alla prima sulla panchina nel Catania domani alle ore 15 a Lanciano ci racconta tutto Valentina Mammino La rivoluzione è appena iniziata il nuovo Catania quello che da domani con il Lanciano dra il via al girone di ritorno inizia a prendere forma Quella di domani sarà una gara dai volti nuovi a cominciare dall'allenatore all'esordio in panchina passando poi per Nicola Belmonte, Manuel Coppola e Riccardo Maniero Ai quali sono stati assegnati rispettivamente i numeri di maglia 26, 42 e 7 che Marcolin ha già inserito nella lista dei 21 convocati Non ci sono invece Rolin ceduto in prestito alla Boca Juniors né Castro corteggiato da Cagliari, Sampdoria e Chievo e dato vicinissimo alla partenza né tantomeno Marcelinho che come noto ha rescisso ieri il rapporto contrattuale con il club dell'elefante Fuori dalla lista anche Monzon e Leto non recupera Martigno abili e arruolabili nonostante le insistenti voci di mercato Spolli, Almiron e Ciani Per la gara di Lanciano il tecnico che in settimana ha provato varie soluzioni potrebbe optare per un 4-3-1-2 Con Terracciano in porta, Prison nonostante gli ultimi rumors e comunque tra i convocati Sauro e Spolli copia di centrali con Belmonte a destra e Capuano a sinistra A centrocampo qualche dubbio in più per Marcolin che vagliate più alternative potrebbe affidarsi al veterano Almiron in cabina di regia Colneo acquisto Coppola a destra e Rinaudo a sinistra, sulla tre quarti torna disponibile Rosina alle spalle di Calaiò e Maniero Intanto sul fronte mercato salta fuori l'idea Mancosu ma difficilmente il Trapani sarebbe disposto a privarsi del suo bomber Si attende uno sviluppo invece per Bellomo per il quale è previsto oggi un incontro, restando sempre vivo l'interesse per Cascione Il primo avversario del 2015 del Catania è dunque il Lanciano che all'andata all'esordio in campionato per il Catania Andò a pareggiare per 3-3 sul campo dello stadio Angelo Massimino Allora l'allenatore era Maurizio Pellegrini, nel servizio di Dario Giuffrida Anno nuovo, vita nuova, celebre modo di dire banalità da tirare fuori in occasione delle festività natalizie Ma per i tifosi rossazzurri sicuramente una necessaria speranza Dimenticare il peggior anno della gestione Pulvirenti e affrontare di petto il 2015 È un obbligo per la truppa rossazzurra che si presenterà al primo appuntamento dell'anno In parte rinnovata, dalla panchina dove il breve Pellegrino Ter ha lasciato spazio al ritorno di Marcolin Ai promettenti primi innesti sul mercato È normale quindi che la gente del Massimino si avvicini alla gara di sabato con Lanciano Con qualche concreta speranza di vedere cambiare il vento L'avversario non è certo irresistibile, ma mai dire mai in questa oscura stagione La squadra, allenata da Roberto D'Averse, settima in classifica e all'andata al Cibali Inaugurò il pessimo girone d'andata Etneo Imponendo un imprevedibile 3-3, preludio di ben più misere figure Una squadra dalle virtù tecniche non astronomiche, quella abruzzese Che la butta di frequente sull'agonismo Fondamentale sarà dunque l'apporto di elementi come Rinaudo E quel Manuel Coppola ha portato a Catania qualche giorno fa Appositamente per dare l'esempio ai compagni in gare come questa È una cooperativa del gol in Lanciano Non ha un bomber che convoglia su di sé tutte le occasioni Uno alla Calaiò o alla Maniero per intenderci Ma bensì diversi giocatori pronti a pungere Da Vastola e Tiam a quota 5 reti A Gatto, Cerri e Monachello Che seguono a quota 4 Un campanello d'allarme che deve destare l'attenzione di Spogli e compagni La Virtus Lanciano è tutto cuore e grinta Qualità necessarie per sopravvivere nell'infernale Serie B Il sorvegliato speciale in casa Lanciano è Gaetano Monachello Giovane giocatore e attaccante degli abruzzesi Ma che ha già un importante curriculum internazionale E questo sicuramente potrebbe essere uno dei punti di forza del Lanciano Da tenere d'occhio per il Catania Ancora da Rio Giuffrida Vastola, Tiam, Gatto, Cerri Ognuno di questi nomi potrebbe essere l'identikit del sorvegliato speciale Fra gli avversari del weekend del Catania Tutti portano in dote dai 4 ai 5 gol alla Virtus Lanciano Nessun bomber seriale dunque ma una cooperativa che ha proiettato Gli abruzzesi nella parte più alta della graduatoria di Serie B Nel gruppo rientra a pieno titolo anche Gaetano Monachello Attaccante classe 94 Segni particolari siciliano di Agrigento e Giramondo Nonostante la giovanissima età Monachello Ha già un curriculum internazionale che racconta diverse esperienze oltre confine Cresciuto nelle giovanili dell'Inter Dopo un breve intermezzo al Parma nel 2012 Va addirittura in Ucraina al Metalurg Donetsk Dove però non mette insieme più di 4 presenze Gaetano non ci pensa due volte E nel gennaio 2013 cambia ancora Trasferendosi all'Olimpiaco San Nicosia a Cipro Con la squadra isolana mette a segno 7 gol in 14 gare Senza però riuscire ad evitarne la retrocessione Gol che però gli valgono le attenzioni del Monaco Che nell'estate seguente lo ingaggia Cedendolo poi in prestito al Cercle Bruges in Belgio 17 presenze e 3 reti dopo Il Giramondo Agrigentino cambia ancora Passando sempre in prestito all'Ergotelis in Grecia L'estate scorsa il ritorno nei patri confini E il Lanciano a dialogare con il Monaco per il suo prestito Con diritto di riscatto In Abruzzo trova una continuità di impiego Mai avuta altrove Mettendo a curriculum 4 gol in 17 presenze Fino ad oggi Che fruttano 4 degli attuali punti dei Rossoneri Potrebbe essere questo quindi il momento Di mettere radici Di fermarsi Almeno per qualche anno nello stesso posto O nello stesso campionato Giusto il tempo di crescere Per poi ripartire verso il calcio che conta Magari al piano superiore In quella Serie A Vista solo da spettatore Continuando però a far benissimo Ma magari solo dalla seconda di ritorno Ci fermiamo con un'altra breve pausa pubblicitaria Al rientro parleremo di Palermo E della Nuoto Catania Con il campionato di pallannuoto Di Serie 2 maschile Tra poco Torniamo dunque in onda Con il Tg Sport di Sesta Rete Abbiamo parlato del calcio Catania Delle trattative di mercato Che interessano i rossi azzurri E della vigilia di campionato Con la gara di Lanciano Che vedrà protagonisti domani Alle ore 15 Gli Etnei Abbiamo conosciuto anche L'avversario di turno del Catania Così come il giocatore più pericoloso Della squadra di Roberto D'Aversa Adesso ci tuffiamo In casa Palermo Che ha vissuto la rifinitura A porte chiuse Con la squadra di Beppe Iachini Che domani sera affronterà Invece la Roma di Rudy Garcia E in questo caso sicuramente I rosa nero sono chiamati Al riscatto Nonostante il compito difficile Perché è arrivata una sconfitta La scorsa settimana Contro la Fiorentina di Vincenzo Montella Mancherà possibilmente Ancora Paolo Di Bala Che resta in dubbio Per l'infortunio muscolare Che non gli ha permesso Di scendere in campo La scorsa settimana Al Franchi Mentre è finalmente arrivato Il rinnovo contrattuale Per Franco Vasquez Il servizio di Sergio Borbagallo Si giocherà domani sera Alle 20.45 Il secondo anticipo Della diciannovesima giornata Di Serie A Di fronte al Barbera Si troveranno il Palermo Di Beppe Iachini E la Roma di Rudy Garcia In un incontro Che promette emozioni I Rosa Nero Hanno perso a Firenze Dopo nove turni Di imbattibilità E vanno subito Alla ricerca di riscatto Di contro la Roma Che spera ancora Di agganciare la Juve E prendersi il titolo Di campione d'inverno In coabitazione In chiave formazione I dubbi per il tecnico ascolano Riguardano le condizioni Di Di Bala Che ha svolto sedute Di fisioterapia Per il risentimento muscolare Accusato a Firenze L'argentino potrebbe non farcele E dovrebbe andare in panchina Anche se il padron Zamparini Spera in un suo recupero Last minute Difatti proprio a Paolino Ha chiesto un selfie Alla Totti In caso di gol Nel posticipo serale Pronto Nel caso Belotti Ad affiancare Franco Vasquez Quest'ultimo Scenderà in campo Con qualche motivazione in più Poiché è fresco Di rinnovo contrattuale Che lo vedrà Legato alla maglia rosa nero Sino al 2019 Per lui Un ingaggio annuale Di 800.000 euro Non dovrebbe cambiare Invece il resto della squadra Con la conferma di Feddalle Nel terzetto difensivo Insieme a Mugnoz E Gonzales davanti a Sorrentino Sugli esterni Morganella e Lazare Mentre in mezzo Maresca Sarai regista Con Barreto E Rigoni A fare da scudo Anche la Roma Le sue tegole Oltre a Gervinio E Keita Impegnati in Coppa d'Africa De Rossi E Nainggolan Devono osservare Un turno di squalifica In dubbio Anche Francesco Totti Che potrebbe Partire dalla panchina Intanto Questo pomeriggio Seduta a porte chiuse Sul terreno di gioco Del tenente onorato Di bocca di falco Per il rosa nero La Roma È alle porte Lasciamo il calcio Ci spostiamo Sulla palla nuoto maschile Andando ad osservare Il campionato Di Serie A2 E soprattutto Ciò che riguarda L'item Nuoto Catania Guidata Da Beppe Dato Domani Ospiti di turno Nella piscina Francesco Scuderi Di Iazzurria Sarà Salerno L'obiettivo Per i rossazzurri È quello Di centrare Una vittoria Per agganciare Gli avversari Di domani E soprattutto Per riavvicinarsi Alla zona playoff Ancora Sergio Pagallo L'item Nuoto Catania Torna alla piscina Francesco Scuderi Per l'ottava giornata D'andata Del campionato Di Serie A2 Maschile Sabato pomeriggio Ospiterà La Rari Nantes Salerno Quinta in classifica Con 13 punti Sopra di tre lunghezze Sugli etnei Una gara Dunque importantissima Per i rossazzurri Dato che potrebbe Scattare L'operazione A gancio in classifica Con una vittoria Che comporterebbe Un riavvicinamento Alla zona playoff Reduce dalla trasferta Di Roma Il set di mister Beppe Dato Proverà a tornare Al successo Cercando di dimenticare Gli ultimi due parziali Contro la squadra Capitolina E provando a ripetere Il buon rendimento Nella prima parte Di gara L'avversario in questione Invece affronterà Un'altra siciliana Dopo aver riportato La prima sconfitta Interna stagionale Contro il circolo Canottieri Ortigia Mentre in trasferta Ha collezionato Due vittorie Ed una sconfitta Latina Imperativo Categorico Per il presidente Dell'Item Nuoto Catania Mario Torrisi E vincere Possibilmente Giocando bene Contro una squadra Che sta svolgendo Un ottimo campionato Formazione solida Ed ostica Convinto che L'arma determinante Sarà la concentrazione Per tutto Il resto Dell'incontro Fischio d'inizio Alle ore 16 Arbitreranno I direttori di gara Camoglio E Collantoni Si chiude qui Questa edizione Del Tg Sport Di Sesta Rete Vi rimando I prossimi appuntamenti E vi invito Come sempre A seguirci Sul canale 215 Del Digital Terrestre E i streaming Su www.sestadete.com Arrivederci Altyazı M.K. Altyazı M.K.